E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di eccoci con Sniper Elite V2 Remastered. Ci manca un solo obiettivo da eliminare e stiamo parlando di Müller, l'altro scienziato che al momento non riusciamo ancora a trovare. Pensavamo che nella missione precedente ormai eravamo arrivati alla fine e invece no, Müller non era lì. Quindi continuiamo la nostra avventura alla ricerca di Müller, l'ultimo obiettivo che dobbiamo eliminare. Da qualche parte fuori Berlino, Wolf e i suoi amici russi si stavano preparando a distruggere Londra, ma non aveva ancora idea di dove fosse il sito del lancio. Conoscevo il luogo dell'ufficio di Wolf nel cuore della città e se non avessi trovato ciò che cercavo, il palazzo di un ministero del governo lì vicino mi avrebbe fornito alcune risposte. La battaglia di Berlino era giunta all'apice, combattimento duri in ogni strada, cecchini su ogni tetto, carri armati su ogni ponte e in ogni piazza. I tedeschi stavano bruciando i loro documenti per impedire che cadessero in mani russe. Dovevo sbrigarmi. E sbrighiamoci. Ok, nuovo obiettivo, raggiungi la metropolitana per filtrarti il quartiere generale tedesco. Io devo andare di là, quindi da questa parte. Eh, guarda qua, guarda. Tedeschi e russi che combattono tra di loro. E io come ci passo, eh? Devo per forza affrontarli. Vabbè, ragazzi, facciamo che libero la zona e ci rivediamo direttamente dall'altra parte. A posto, ragazzi, liberata tutta la zona. Siamo dall'altra parte. Noi siamo arrivati da là, da qua. Abbiamo attraversato tutto il ponte, il fiumicello, e siamo dall'altra parte. Munizioni e scendiamo. Cerchi i programmi di Wolf nel suo ufficio. Ah, è vero, Wolf. Io nell'intro ho detto Müller. Müller è quello vecchio, l'abbiamo già ucciso. Oh, buono, ragazzi. Qua abbiamo il rumore delle bombe che ci copre. Quindi, approfittiamone. Bravo, bravo. Fumati la sigaretta. Perché sarà la tua ultima sigaretta. Siamo arrivati! Mano al ponte. Perfetto. Ragazzi, non lo voglio dire. Però forse facciamo la misura esterta adesso. Vai, così. Eh, no, aspetta, aspetta. Aspettiamo l'altra bomba. Eccola. Eccola. Dai che forse si va in stelta oggi. Dai, dai, dai. Ok. Guarda qua il cielo. No! Cazzo, mi ha sgamato. Vabbè, vabbè. All'ultimo mi ha sgamato. Però dai. Ho sparato troppo presto. Però dai. Non ci possiamo lamentare. Continuate a cercare. C'è ancora qualcuno in giro. Vabbè, tanto il nostro obiettivo è qui. Punition. La stanza era un disastro. I crucchi l'avevano distrutta. I documenti erano stati rubati o bruciati. Ma doveva pure esserci qualcosa di utile. Un vecchio trucco, ma funziona sempre. Bingo. Questo era il piano di fuga di Wolf. Ma prima di pensare a Wolf, dovevo fermare il lancio del V2. Non c'era nulla qui che mi potesse aiutare. L'unica speranza era il palazzo ministeriale dall'altro lato della piazza. Ok. Nuovo obiettivo. Occhio. Trova delle informazioni che posso condurti al sito di lancio. Vabbè, però comunque abbiamo trovato qualche informazione utile su Wolf. Ehm, ma l'hanno già visto. Ma dai, ma dai. Posso usare la metralietta qua? Dai, ci non sprecchiamo neanche i colpi. Ehm, ma solo per uno. Vale la pena. Soldati? Soldatini? No, eh? Niente? Niente. Ok, finiti. Cecchini, non ne stanno qua? Apparentemente no. Avanziamo comunque con cautela. Guarda là, guarda là. Comunque è meglio eliminarli questi. Potrebbero darmi fastidio. Oh. Chi è che sta sparando? Guarda il cecchino dove sta. Ma scusa, ho controllato io prima sul tetto e non l'ho visto. Dove dia vuole uscito? No, ecco. Allora. Troviamo le informazioni per il sito del lancio del V2. Dovrebbe essere da questa... Dovrebbe andare sopra. Qua è chiuso. No, dove è giù? Sono salito troppo sopra. Ah, di qua, di qua. Corri, corri, corri. Spagni, spegni. La mappa mostrava tutti i possibili siti di lancio a Berlino. Solo uno era operativo. E in territorio occupato dai russi. E quando mai la gioia? Quello dove deve essere in posto. Allora. Nuovi di fuggi dai tetti. Eccolo qua il cecchino. Carichiamoci. Ok. E avanziamo. Facendo attenzione a sti stronzi. Occhio al buco. Aspetta che stanno sparando ancora. Di qua. No, non riesco. Aspetta, fammi spostare. Ecco, bravo, spostati tu. Bravissimo. Ti sembra che si può avere la posizione ideale per essere ucciso. Boh, da dentro la... Il fucile. Aspetta, aspetta, ce ne sono un po' troppi. Allora, ce n'è uno qui sulla cappella. Ahia, nei polmoni. Poi. Ce n'è un altro. Dove stai? Qua. Qua sono in metizia tra le macerie. E un altro. Qui. Poi. Sono finiti? No. L'altro qua sopra. A posto. Ma c'è un altro che sta sparando però. Sti cazzi. Dove sei? Eccolo. Io non risparmio nessuno. Ok. E pare siano finiti. Missione compiuta. Perfetto, ragazzi. Spero che questi video vi stiano piacendo. Voi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un commento. Supportate la serie, supportate il canale. E noi ci vediamo sempre qui sul canale con un nuovo video. Un saluto da Mizzaraga Red. Ciao, adio. Ciao. 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 . Ciao. Grazie a tutti.